La Banca di Calito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe apre ancora una nuova finestra su quella che è l'arte e la cultura e oggi con la presentazione del libro di Paolo Gentiloni ritorniamo un po' su quella che è una pagina della storia politica dell'Italia però anche con un occhio verso il futuro. Sì, questa è la nostra missione, quella di portare cultura e informazione sul territorio. La presenza di Gentiloni sicuramente è importante per noi e per tutto il territorio.